Tu nel momento più bello te ne vai, giorni di studio buttati. Ma mi ha chiamato il reggae, mica la posso far aspettare, no? Eh, aspetta, aspetta, tu hai diventato, ma quando è che cominci a pensare un po' alla tua dita? Quando? Dai, metti la mano in tasca, dai, gomme di larghi, mano in tasca, via! Ma come stai mangiando? Quando mangi il sugo ti deve scendere, devi mangiare a pitofo, a pitofo, sai com'è a pitofo? Devi abbassare un po' il sederino così, vedi? Bravo, allunga le braccia, bravo, bravo, che stai mangiando a pitofo? Che ti sbrodoli bilaterale, ma non ti mangi, hai capito? Hai capito? Hai capito quale hai trovato? Va bene così, per la macchina è buona. Dall'inizio si vede voi che state così. Allora, un'altra volta, decinevi un'altra volta. Allora, un'altra volta. Ok, ripeti. Frate, fratelli, fratello, 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 compagno mio, compagno lo meglio, compagno mio! Io vengo da te e dico, però mettici anche del tuo, hai capito bene? E io vado avanti. Ci ho capito perfettamente. E tu fai bene. Frate, fratelli, fratello, 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 compagno mio, o meglio compagno mio, o meglio compagno tuo fratello, cugino, compagno mio, eh! Va bene. L'allievo su e l'ho messa. Offesa? Questa è l'offesa. Offesa numero 4. Prego. Offesa numero 4. Eh, va, 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 va. Sei più sceme, mamma, te, e pato, te, messi insieme, e taggio trattato. Ahahahah, è una cosa meravigliosa. E' tanzo trattato! Ballino! E' tanzo trattato! Ballino! Ci ricorderemo. Allora, si parte così. Senti, tu, quando... Allora, ripetiamo. Grazie! Nello, 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 Nello. Eh! Nello, Nello, Nello. naiva. Grazie a tutti.